Gli angeli, i santi e voi, o fratelli, di pregare per me, il Signore di Dio nostro. Oggi contempliamo i misteri luminosi, nel primo mistero il Varchesimo di Gesù nel Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, beca il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia.